ciao marica benvenuta su metal pizza come stai a tutti grazie o bene tu io bene grazie e grazie per avermi invitata prego ho finito di lavorare sulle foto che ho fatto al tusca l'altra settimana le ho messe online quindi è stata una tutta una settimana molto molto busy come si dice vengono neanche le parole in italiano ogni tanto incasinata una settimana incasinata ecco perfetto perfetto è un periodo particolare anche per me pensavo che con l'inizio dell'estate tutto si calmasse invece assolutamente no mai una gioia questo non significa che non ci siano cose belle anzi ogni tanto se ci sono tante cose belle non c'è il tempo per rilassarsi è vero verissimo verissimo allora parliamo un po di te tu sei una cantante e sei abile di di cantare in differenti stili quando hai iniziato a cantare allora se devo dire proprio gli inizi inizi avevo tre anni e si è una roba ero veramente piccola e si accorsero alla scuola materna che ero predisposta quindi c'era un concorso diciamo c'erano le selezioni dello zecchino d'oro che è un concorso molto famoso qua in italia per i bambini e quindi mi fecero partecipare e ho ancora i video ero talmente piccola che non riuscivo a parlare cioè era una cosa in realtà il video è tenerissimo perché mi chiedono sai come ti chiami così non riuscivo neanche a parlare tanto ero piccola ed è iniziata così poi in realtà sono stata fortunata perché i miei genitori mi hanno sempre lasciata libera e questo significa che non mi hanno neanche messo pressioni quindi quando poi io mi sono riapprociata al canto l'ho fatto comunque con consapevolezza l'ho fatto perché volevo quindi ho iniziato da così piccola poi ho sempre cantato sempre avuto la passione ho fatto anche qualche corso al liceo eccetera eccetera e fino a quando poi quando ho iniziato a studiare musicologia a bologna quindi proprio all'università ho deciso di prendere ramo musica e poi diciamo in parallelo ho iniziato a studiare seriamente canto e pianoforte proprio col corso con la scuola eccetera eccetera dico in parallelo perché è vero che ho fatto un'università di musica ma l'università è di teoria della musica quindi non è non c'era pratica non è il conservatorio musicologia è un'altra cosa e quindi niente poi da qui da cosa nasce cosa ed eccomi qua e tu insegni attualmente anche quanti studenti hai più o meno allora come ti dicevo è un anno è un periodo impegnativo io ad oggi sono a circa 50 ore a settimana quindi considera 50 studenti ogni settimana in questi anni siamo veramente a centinaia cioè lo dico lo dico con con grande orgoglio sono molto molto contenta che poi anche quando poi i ragazzi prendono le loro strade per me rimangono sempre studenti quindi alcuni continuano a mandarmi messaggi mi mandano magari nel frattempo hanno fatto degli album delle cose io sono contentissima quindi comunque do consigli e quindi sì però ad oggi siamo sulla cinquantina di persone ok quindi 50 ore a settimana 50 ore a settimana impegnativo perché di base se prendiamo ad esempio una persona che fa un lavoro random qualsiasi cosa 40 ore settimanali sono più o meno le ore di lavoro quindi tu fai extra sì sì esatto esattamente quello poi chiaro è che io ti parlo di 50 ore poi c'è sempre magari quello che si assenta, quello che si ammala però a livello di numero di persone sono una cinquantina quindi più o meno togli quelle cinque persone a settimana ecco quindi si sforo sì considerando poi anche youtube e il resto sforo tantissimo sono tutte lezioni in persona oppure ci sono anche lezioni che fai tramite internet? un po' e un po' ok un po' e un po' io lavoro in un'accademia rock un posto fichissimo che c'è qua a Bologna che si chiama FM che è strettamente legata all'alchemica che è un locale a livello nazionale che comunque ha il suo nome e quindi di là faccio maggiormente presenza anche se lì comunque ho qualche online e poi il resto sono comunque allievi per la maggior parte online quindi ho la fortuna anche di avere studenti da tutta Italia sì ok hai qualche studente straniero anche? allora fammi pensare partiamo a settembre partiamo a settembre perché ho già avuto dei contatti in Germania nello specifico e partiamo a settembre ok bene quindi sì quindi arriva anche a livello internazionale allora parliamo poi del tuo gruppo il Red Masquerade il vostro primo album è stato rilasciato nel 2018 The Seventh Room cosa puoi dire a riguardo di quell'album? quali sono le tematiche trattate? allora è quell'album a livello testuale l'abbiamo costruito un po' come un concept album quindi sostanzialmente si rifà alla Maschera della Morte Rossa di Edgar Allan Poe la Maschera della Morte Rossa ha sette stanze nel racconto non vi spoilero nulla leggetelo perché è corto ma bellissimo quindi veramente vale la pena comunque all'interno del castello in cui si svolge la situazione la storia ci sono sette stanze noi abbiamo preso queste sette stanze e le abbiamo associato ognuna a un colore ma ad ognuna abbiamo anche associato non dico allora un peccato capitale ma in realtà è più ricondotto verso un qualcosa che sta portando l'umanità al degrado ok? ci sono varie tematiche all'interno quindi si parte da come ti posso dire avarizia ha anche cose più come per esempio sfruttamento della prostituzione cioè parliamo di argomenti anche abbastanza seri e abbiamo cercato appunto di rilegare a ogni argomento una stanza parliamo di guerra parliamo di depressione insomma argomenti importanti esatto ogni ogni canzone ha il suo senso le canzoni però sono nove una è dedicata ad Edgar Allan Poe e l'altra è dedicata proprio alla maschera della morte rossa che è anche il singolo Le Masque in francese così e adesso cosa state facendo attualmente? perché ho visto che l'ultimo concerto lo avete fatto all'Alchemica in marzo se ricordo bene sì in apertura I Frozen Crown cosa state facendo in questo momento? state lavorando su nuova musica? esattamente esattamente stiamo stiamo ultimando la composizione del nuovo album e anzi guarda proprio ieri abbiamo fatto una riunione dove abbiamo fatto il punto della situazione quindi stiamo veramente finendo finendo di di scrivere le tracce e speriamo di partire col nuovo anno scolastico quindi da settembre in poi veramente alle registrazioni sarà un album diversissimo stiamo cercando di cambiare genere al punto che abbiamo pensato anche di cambiare nome però non cambiamo nome però vogliamo veramente cambiare modificare proprio lo stile quasi completamente ok perché diciamo che i Red Masque nascono con una grossa impronta symphonic che aveva senso quando è nata cioè l'artista si evolve lo vediamo anche nei più famosi no? esatto e i Red Masquerade sono nati nel 2013 quindi è tanto tempo fa e ci siamo resi conto che siamo cambiati quindi era anche giusto un po' seguire i nostri istinti e stiamo andando in una corrente molto molto più cattiva diciamo così ok quindi andiamo più verso sonorità pesanti sì è un miscuglio tra progressive progressive moderno e e nu metal sotto certi aspetti ok mi piace questa è colpa mia ci sta oltretutto il nu metal attualmente sta avendo un grande ritorno insomma ci sono tantissime nuove band che propongono appunto nu metal quindi è attuale sì io sono felicissima perché vengo da da quella roba là quindi io nasco con System of the Down insomma tutto quello di Limp Biz quindi io sono felicissima che stanno tornando i fine 90 primi 2000 stanno tornando io sono bellissima sì 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 ho comprato i pantaloni come Sandra Nasic dei Guano dei Guano l'altro giorno sono fiera di questo ritorno del nu metal ascoltate nu metal è bellissimo esatto e soprattutto voglio dire ai gruppi che è giusto sperimentare non solo ai gruppi ai musicisti in generale sperimentare provare qualsiasi cosa anche che non sia metal se uno se uno suona per tutta la carriera sempre la stessa cosa rimane là non c'è non c'è quel qualcosa in più tante volte bisogna un po' uscire da dai propri limiti provare qualcosa di nuovo magari poi non funziona eh si può sempre tornare indietro però nessuno vi mette su una croce se provate qualcosa d'altro ok magari ci sono alcuni fan hardcore che proprio vogliono che sia sempre uguale come il primo album però secondo me l'artista deve essere libero di di sperimentare di fare quello che sente nel proprio cuore assolutamente sì io sono d'accordissimo anche per un altro motivo che se poi ci fossilizziamo sempre sulla stessa roba e se per caso poi iniziamo ad annoiarci ma lo facciamo per criterio per coerenza potrebbe anche succedere che poi non ci divertiamo più è un po' quello che stava succedendo a noi e il problema è che se noi non ci divertiamo più il pubblico lo avverte e a prescindere sarà un fallimento esatto quindi io consiglio sempre eh come te di sperimentare di eh ma io ho ascolti veramente eh tra i più vari posso andare dai ginger a Tasha Sultana che fa quasi reg quindi eh però è interessante interessante perché magari lei mette quell'effetto eh che io penso di poter usare nel mio album in un'altra chiave quindi eh è giusto così è vero bisogna sperimentare ascoltare di tutto non non chiudere le porte non chiudere le porte a a tutto esatto veramente proprio per una crescita personale e anche a livello artistico appunto sì ma a livello di concerti avete in mente di fare una tournée più avanti magari prossimo anno oppure ancora è tutto tutto da vedere allora niente di organizzato ancora ma sì sicuramente diciamo che rispetto al primo album vogliamo organizzare bene tutto il primo album l'abbiamo fatto uscire ma poi non abbiamo mai avuto modo la possibilità di organizzare una varia propria tournée eccetera eccetera invece quest'anno stiamo partendo già da ora perlomeno a ragionare su questi argomenti già da ora intendo che ancora l'album non è neanche finito però stiamo già mettendo in avanti tutta una serie di argomenti tra cui videoclip appunto varie tournée date su cui appoggiarci insomma su tutta una serie di cose quindi l'intenzione c'è ecco partiamo da questo ok sia a livello nazionale che internazionale ok quindi attendiamo di sapere un attimino quando saranno i concerti per quanto riguarda invece c'è il rilascio di singoli hai già idea più o meno quando il primo dovrebbe essere rilasciato allora noi ci stiamo mettendo delle date ora prendetele con le pinze perché ancora è tutto da vedere però speriamo tra gennaio e febbraio prossimo ok di far uscire il primo singolo speriamo incrociamo le dita quindi tra un sei mesi più o meno sì se va tutto come abbiamo programmato sì ok attendiamo speriamo poi bisogna seguire ovviamente i vostri social media in modo assolutamente noi siamo molto operativi su Instagram ovviamente YouTube in realtà per i videoclip ma su Instagram siamo siamo molto operativi quindi vi consiglio di seguirci lì perché comunque anche in quel caso stiamo pensando di tenere più attiva la pagina proprio per informare insomma per far vedere un po' quello che facciamo quindi sicuramente sarà anche più attiva la pagina perfetto parliamo invece di YouTube perché tu fai video in cui fai reazioni e analisi per quanto riguarda cantanti ho guardato un po' dei tuoi video ti avevo fatto anche una richiesta che poi hai esaudito ed era su Will Ramos che cantante assurdo veramente e quindi è stato molto interessante vedere la tua reazione ricordo che hai fatto anche una reazione su sui Moneskin e tra i commenti su Facebook ovviamente c'erano persone non troppo contente perché in Italia perché in Italia si sputa sempre su coloro che hanno successo sì sì hai beccato bene hai beccato benissimo il punto direi è un po' un problema ed è questo è un po' un problema che io in realtà in generale allargo proprio a tutta la scena soprattutto underground spesso non c'è abbastanza supporto cioè in estremis ti dico anche che mi è capitato di sentire persone che dicessero ah ma a me non interessa vedere gli altri che suonano e questo è un limite e torniamo al discorso di prima ascoltare arricchirsi imparare cioè se qualcuno fa successo io cerco di apprendere cerco di imparare cerco di capire perché è andata bene posso anche ispirarmi ai Mane Skin magari poi faccio metal come il mio caso però perché quella canzone funziona così tanto magari perché hanno quel ritornello fatto in una certa maniera perché hanno seguito un light motive che si ripete per tutta la canzone insomma si può imparare da tutto invece purtroppo qua spesso e volentieri si sputa su chi ha successo come dici tu oltretutto poi concludo dicendo se loro sono lì e noi no hanno ragione loro quindi non possiamo dire altro e poi ci sono tante motivazioni per il quale un gruppo sale di più rispetto a qualcun altro c'è una questione di marketing c'è una questione di management ci sono talmente ci sono talmente tante cose e tante cose che magari un gruppo dice no non sono disposto a fare questo magari loro hanno detto ok facciamolo chiaro però sai ogni tanto penso hanno mai voglia di stare a casa a fare un cazzo in sostanza perché sono tutto il tempo super attivi e un paio di volte ho guardato qualche intervista e si vede che sono sfiniti ok sono giovani sono giovanissimi hanno appena venti qualcosa anni quindi c'è l'energia però la salute fisica e mentale è importante purtroppo questo in linea generale è un po' il problema del dello star system che adesso loro stanno cavalcando l'onda e siccome stanno cavalcando l'onda li spremono come dei limoni è così poi insomma purtroppo anche loro devono cavalcare l'onda cioè io se mi dovesse capitare un'occasione del genere farei il possibile farei veramente il possibile perché comunque è questo momento oltretutto siamo in un mondo che è talmente tanto accelerato che veramente oggi è successo domani non ti ricorda più nessuno quindi forse anche io mi comporterei come loro di scapito della salute è brutto da dire ma sì effettivamente sì viviamo in un mondo in cui è tutto usa e getta in sostanza brava e con l'avvento dei social media tutto è veloce cioè è vero se una volta tu aspettavi l'album di un gruppo e durava ok dai due ai quattro cinque anni dipende quanto velocemente la band voleva voleva buttare fuori roba adesso con Spotify buttiamo fuori solo singoli qualche EP ogni tanto qualcuno butta fuori l'album però l'album non è più così importante sono i singoli perché la gente vuole il single oh guarda che che picchio il microfono qua mentre parlo che c'è della foga in quello che dici e hai perfettamente ragione guarda a proposito di Open Mind Avantieri sono stata al concerto di Salmo non so se lo conosci è un rapper italiano ho presente credo fosse a Sanremo quest'anno giusto sì sì se non sbaglio sì allora forse Sofia e lui ha detto una frase molto importante lui ha detto ormai da quando la musica non si paga più è diventata ha perso completamente valore perché effettivamente adesso non voglio fare la vecchia della situazione ma io quando ero piccola acquistavo i cd e mi rendo conto io stessa come i cd acquistati io li ricordo ancora parole tutto tutti i riff tutto a distanza di vent'anni se mi chiedi a parte la recezione degli album che io ascolto adesso ricordo poco cioè devono devono avermi proprio colpito c'è qualche album dei ginger qualcosa dei flash god apocalypse che ho ascoltato veramente alla nausea ma per il resto per quanto ascolto un sacco di artisti interessanti però non mi ricordo magari neanche i titoli delle canzoni purtroppo è così è vero purtroppo è vero e devo dire che ogni tanto mi fisso se trovo qualche artista o c'è qualche album particolare allora mi fisso su quell'album e lo ascolto a manetta sì faccio l'esempio dei Lorna Shore con Pain Remains quello è un album che dopo anni che non avevo questa questa cosa questa fuga se vogliamo dire sì non so neanche io come descrivere però ho avuto questa cosa che l'ho l'ho voluto ascoltare talmente tanto che probabilmente nessun altro nessun altro album su Spotify riesce a raggiungerlo anche perché sarebbe bello sì riuscire ad ascoltare gli album col vinile e tutto il resto però la maggior parte delle volte che mi metto ad ascoltare musica sono sull'autobus sono in bici quindi è un po' di un po' difficile sai portare il vinile che sicuramente sicuramente ma questo vabbè poi qua io inizio a divagare su discorsi anche che vanno oltre però questo è anche un po' un problema sociale noi non abbiamo più il tempo come l'avevamo una volta di sederci e ascoltare un cd o un vinile e quindi qua poi non mi addentro in questi discorsi perché se no andiamo a finire da tutt'altra parte però anche questo è un problema e lo rivedo anch'io io ascolto appunto in macchina piuttosto che mentre faccio altro ma la mia concentrazione non è al cento per cento come invece quando ti siedi in casa piazzi un cd piazzi un vinile quello che è e lo ascolti esatto è cambiato il modo di fruire la musica però torno a te parliamo anche di qualità spotify non dà il massimo della qualità sonora quindi oltretutto la maggior parte degli album sono registrati a livello digitale quindi con tecnica digitale però ci sono ancora e stanno tornando alcuni studio che registrano in analogico quando ascolti un album parlo di cd o di vinile con il vinile riesci a sentire tutto ecco è il massimo per ascoltare musica però anche col cd riesci anche su spotify quando è registrato in analogico ti accorgi che la qualità è diversa è meglio è meglio ok non dico che non mi piace la musica registrata digitalmente no anzi ne ascolto tanta però è vero che quando ascolti qualcosa che è registrato in analogo è tutta un'altra un'altra cosa si sente non c'è c'è più ricchezza nel suono sì è vero è vero è vero purtroppo è più economico è più rapido il digitale è sempre lì usa e getta come abbiamo detto prima però dall'altro l'analogico è veramente è veramente un'altra faccenda è veramente un'altra faccenda purtroppo anche anche gli stessi fonici sono sono costretti a volte appunto per questioni di tempi di di anche di economia e e anche loro dicono a volte noi facciamo prodotti magari ricchissimi di di suono molto molto pensati fatti fatti in un certo modo però poi finiscono su spotify che abbassa la qualità tantissimo e quindi è un lavoro quasi sprecato bisognerebbe stampare appunto vinili e cd adesso in realtà nel metal continua ad andare perché fortunatamente c'è un sacco di collezionisti io ancora compro i cd quindi però diciamo nella musica più mainstream ormai neanche si si fanno più i cd quindi oltretutto non so la maggior parte della musica mainstream suona uguale nel senso che ascolti una canzone e dici ma non è quello no è un altro artista sembra la stessa roba però ok eh sì guarda ho lavorato fino a poco tempo fa con dei ragazzi incredibili sono stata benissimo con loro eh in un'etichetta discografica praticamente facevo proprio coaching agli artisti che lavoravano per questa per questa etichetta eh l'etichetta trattava soltanto pop in tutte le sue varianti eh italiano e lì ho scoperto un sacco di cose proprio su questa roba qua come per esempio il fatto che in realtà alcune sonorità sono quasi dettate per legge dal mercato cioè della serie che se non metti quel sound le radio non ti passano perché va quello e non possono permettersi di mettere un qualcosa magari di più estroso di più artistico purtroppo e quindi succede questo quindi in realtà il ragionamento è molto più complesso sono uguali sì spesso non è colpa neanche degli artisti cioè glielo impongono una cosa che mi ha colpito è anche la durata cioè spesso e volentieri chiedono che il ritornello duri x se dura di più non lo fanno fare è assurdo però sapevo che c'è tutta una questione di mercato con le radio con le case discografiche e robe così infatti non sono un amante delle radio magari radio più piccole web radio che trattano appunto generi magari più di nicchia allora sì però di base le radio tendo ad ascoltare radio che mandano roba adattata roba di quando ero giovane quindi roba mainstream dei tempi metà anni novanta inizi anni duemila ecco chiaro e siamo tutti contenti sì anche io perché poi sei là a dire ah che bella sta canzone me la ricordo è vero è vero è vero sì ma anch'io non ascolto non ascolto molto se no qualcosa che mette più rock ma aggiustano il tragitto in macchina se non ho un cd da ascoltare ecco però sì 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 non è non è un bel mondo io ho avuto la fortuna appunto lavorando con questi ragazzi di di riuscire cioè di ascoltare le loro canzoni diciamo agli esordi quando proprio le scrivevano e le trovavo stupende ma proprio stupende profonde sia come testo che come melodia e quando mi facevano sentire il prodotto finito spesso e volentieri rimanevo delusa perché in realtà erano erano migliori come erano state concepite quindi quando poi le hanno adattate appunto a questi canoni in realtà perdevano perdevano e questi artisti cosa fanno allora a questo punto loro sostanzialmente le rilasciano così ma poi nei live le cantano come dicono loro ok però è un po' il discorso di prima dei Mane Skin ci abbassiamo pur di avere successo se i sacrifici sono fattibili sì probabilmente se venisse domani da me la nuclear blast e mi dicesse guarda cambia questo ritornello e ti faccio un contratto io dico va bene lo faccio cioè probabilmente sì a meno che non mi chiedi di fare despacito ecco però sai cosa mi viene in mente gli evanescence evanescence come li chiamano sì per me evanescence perché bring me to life per fargli aver successo li avevano obbligati a mettere il rapper dentro ma il rapper non era mai parte del gruppo poi a un certo punto si parlava che Emily aveva voluto cacciare il cantante maschile però in realtà era tutta una questione di mercato li avevano obbligati ad avere sto rapper nella canzone per poterli buttare in radio in sostanza sì avevo sentito questa storia e se ci pensi ha senso con gli anni in cui è uscita bring me to life eh sì ha proprio senso perché che anno è adesso l'anno non me lo ricordo ero lo specifico 2002 forse siamo in quegli anni lì in che anni siamo siamo in gli anni lì dove sostanzialmente c'era questo miscuglio Linkin Park eccetera eccetera quindi aveva senso cioè aveva senso aveva senso per il mercato eh non dico che era giusto per il mercato aveva senso purtroppo purtroppo è così è sempre una questione di di mercato alla fine sì perché sì probabilmente ce ne sono talmente tanti di esempi sì che non finisce più se iniziamo sì è vero poi dipende anche io non condanno né chi si tra virgolette abbassa a fare questa cosa e neanche chi non lo fa sono scelte esatto sono scelte se una persona ha come priorità l'esprimere la propria arte ad ogni costo allora è giusto che non si pieghi alle condizioni delle delle etichette se invece l'obiettivo è magari farsi conoscere e comunque salire allora ha senso farlo dipende dipende da cosa ci dipende da cosa uno vuole da qual è il goal sì esatto perché alla fine siamo tutti diversi abbiamo tutti priorità diverse per qualcuno il sogno può essere diventare famoso essere su tutti i giornali su tutte le pagine web calcare i palchi più grandi attorno al mondo che è ok per un musicista calcare i palchi più grandi attorno al mondo è la cosa principale probabilmente magari non tutti i musicisti vogliono fare musica per suonare dal vivo ci sono anche alcuni musicisti che vogliono solo fare musica senza poi suonare dal vivo però di base il suonare dal vivo da quel quel qualcosa in più quel quel a me sì personalmente sì cioè io sul palco mi trasformo parecchio e e vi dà carica e energia cioè a me piace molto però conosco un sacco di musicisti musicisti eccezionali che per loro è un sacrificio suonare loro starebbero tutto il giorno in casa a scrivere cioè hanno proprio bisogno di creare e ne hanno veramente tanto bisogno e suonano solo perché si fa ecco perché un musicista suona però fosse per loro starebbero tutto il giorno a scrivere per me per me tutte e due però non nascondo che a me il palco il pubblico dà un sacco di cariche mi diverto tantissimo immagino immagino poi appunto siamo tutti diversi il mondo è bello perché vario sì 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 sono d'accordo sono d'accordo allora parliamo un po' di musica metal perché io sono curiosa di sapere quando hai iniziato ad ascoltare metal e com'è successo come è possibile allora perché esatto allora io comunque parto dal comunque dal rock è una roba secondo me alla fine è stato una quasi una conseguenza non so se conosci Litfiba sì comunque sono una band esatto sono una band italiana che soprattutto tra gli 80 e 90 ha fatto veramente storia del rock italiano e io proprio ricordo che il primo cd che io ho ascoltato in maniera totalmente autonoma a otto anni cioè dove io fisicamente ho preso il cd e l'ho messo all'interno di un lettore è stato proprio un cd di Litfiba i Litfiba negli anni 80 avevano canzoni anche abbastanza crude che come tematiche insomma si possono tranquillamente paragonare ad alcuni generi del metal dico tanto che una dice cose come io sono come Dio e potrei rapirti il cuore in un attimo cioè insomma era una roba bella intensa mettiamola così e quindi io già secondo me avevo proprio la predisposizione per un certo tipo di sonorità e quindi poi siamo passati da lì a i Nirvana e quindi un po' ai Dors e questo ti parlo magari alle medie più o meno questi anni qua e poi adesso io non voglio fare appunto troppo la vecchia ma quando ero piccola non è che c'era Google o YouTube e quindi ho un ricordo vivissimo di sta roba c'era una pubblicità della Puma che aveva una canzone stupenda e io l'ho cercata per anni e non avevo amici che ascoltavano quella roba lì quindi io non riuscivo a capire che cosa fosse ed era Make me bad dei corn e l'ho scoperto a caso non mi ricordo come a un certo punto ecco la pubblicità della Puma e da lì ho iniziato ad ascoltare ad ascoltare appunto il new metal quindi System of a Down il mio gruppo preferito non si discute e poi da lì ho iniziato a frequentare anche il giro metal che c'era a Sassari io sono sarda e nessuno se lo immagina ma la Sardegna è praticamente una piccola Germania si ascolta solo metal e si beve tanta birra ok sì 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 e nessuno lo immagina quando quando porto degli amici in Sardegna rimangono colpiti ma qui siete tutti metallari quindi ecco in realtà è molto facile se sei sardo entrare nel mondo metal oltretutto avendo già quel background lì ero abbastanza predisposta ha solo un difetto la Sardegna che è molto legata al vecchio quindi ho passato fino a quando non mi sono trasferita qui a Bologna ho passato tutta la mia praticamente adolescenza ad ascoltare Iron Maiden Judas Priest Metallica Slayer belli gli ho amati per carità però non ho mai avuto anche lì la possibilità di espandere i miei orizzonti poi sono arrivata a Bologna ho conosciuto gli Slipknot bellissimi e poi quindi in realtà ho avuto una sorta di regressione io più divento grande più ascolto roba da ragazzini perché e vado proprio a scoprire cose i Brimi d'Horizon io ho iniziato ad ascoltarli l'altro giorno per me sono bellissimi e vado a scoprire sonorità che magari nel 2010 così non ero pronta o non avevo la cerchia giusta per poterli ascoltare esatto se io ripenso vabbè quando ero ragazzina ascoltavo quello che proponeva Tele Monte Carlo 2 le radio quindi io ero fissa se penso all'estate del 1999 e avevo 13 anni io ero fissa a guardare se non andavo al mare o prima e dopo quando tornavo a casa a guardare Tele Monte Carlo 2 con di mattina c'era protezione zero ok poi c'era color radio ma ce n'erano tantissimi mi passavano un po' di tutto e io non avevo idea che ci fossero diversi generi di musica per me era musica tutto era musica e c'erano cose che mi piacevano e cose che mi annoiavano ricordo alcuni se devo dire il nome non ricordo che canzoni erano ma c'erano delle canzoni che mi stavano proprio qua che non di nuovo la mettono di nuovo la mettono però poi pensando comunque ascoltavo ascoltavo anche canzoni rock e metal senza sapere che fossero rock e metal e appunto poi con l'inizio degli anni 2000 e nu metal Linkin Park System of the Down eccetera Link Big Sit ovviamente sono tutti gruppi che anch'io ascoltavo ma non sapevo che fosse metal io li ascoltavo e via chiaro chiaro guarda una canzone per dire che cantavo con una mia amica ma sai quelle robe proprio all'uscita di scuola così era Heaven's Lie dei Lacuna Coel ma io mica ascoltavo i Lacuna Coel cioè sì già ascoltavo metal ma non è sono quelle robe che sì sei la canzone però anch'io come te cavolo l'ho scoperto dopo chi erano veramente Lacuna Coel e questa cosa è incredibile una cosa che mi ricordo dell'inizio anni 2000 e quando sono venuti fuori i Muse ed erano sconosciuti in sostanza io ricordo che ero in fissa con Muscle Museum ok e quindi ero andata anche a comprare il loro primo album ricordo che ogni volta che c'era sempre un solo album nel negozio di dischi e il genio io prendevo il disco siccome ogni volta poi quando avevo i soldi non c'era più prendevo il disco e lo nascondevo da qualche altra parte così sapevo la prossima volta quando i soldi che mia nonna mi ha dato i soldi vado a prendere il disco e invece poi non c'era mai perché lo mettevano appunto a posto era sempre finito perché c'era solo un vendita vabbè a un certo punto l'ho comprato anche però è passato tempo però ricordo che dicevo ai miei compagni di scuola ah sì i Muse sono fighi ma non esiste un gruppo che si chiama Muse è tutto nella tua testa e poi un paio d'anni più tardi tutti ascoltano i Muse io il primo album dei Muse l'ho raccattato in una maniera incredibile questa breve storia te la racconto mi ero appena fidanzata col mio compagno e come regalo gli volevo regalare tutta la discografia dei Muse quindi inizio a girare per Bologna e trovo tutti gli album tranne il primo ma giro tutti i negozi tutti tutti c'era ancora Blockbuster entro da Blockbuster gli chiedo vi prego io sono disperata un po' è Natale mi manca questo album e la commessa mi fa guarda noi non ce l'abbiamo però possiamo fare una cosa io c'ho il mio nello zaino ti vendo il mio e io aspetto che arrivi e quindi praticamente in questa discografia che gli ho regalato Showbiz è usato perché è della commessa del Blockbuster che poi che poi insomma chissà se lo sarà ricomprata insomma anche tu c'hai la storia dei Muse sì 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 a me piacciono un sacco anche a me ma soprattutto i primi due album poi sì si sono evoluti e sono bravissime bravissimi e niente da dire però i primi due album sono sono legati sai un po' di emozioni un po' di sono d'accordo insomma è un po' diverso ma è come sempre la musica è emozione tu ti leghi a certi a certi album a certe canzoni alla fine parlando di musica dal vivo ti ricordi qual è il primo gruppo che hai visto dal vivo metal o rock? allora se parliamo di metal o rock sicuramente Elite FIBA invece il primo concerto tolto l'underground perché quello in Sardegna c'era un sacco il primo concerto proprio metal grosso che ho visto era un festival in Sardegna dove c'erano Halloween e Children of Bodden bello perché in Sardegna ripeto c'è una scena talmente forte che chiamano gruppi della Madonna ma veramente ci sono stati i motore di in Sardegna i ginger i arcenimi c'è stato di tutto in paesini piccolissimi e in Sardegna ho visto Halloween e Children of Bodden il primissimo concerto diciamo grosso serio bello come primo concerto non male sì che anno era 2004 ok 2004 sì perché poi l'anno dopo eh sì 20 anni come? no non è vero e poi l'anno dopo ho fatto il mio primo God of Metal qua a Bologna e poi mi sono trasferita a Bologna quindi sì sono sicura che era 2004 eh sì qual è il concerto più figo che hai visto? che domanda è difficile è difficilissimo difficilissimo oddio ne ho visti talmente tanti perché poi io vado nei festival quindi vedi tanti gruppi allora guarda ti posso dire più che altro il concerto che mi ha dato veramente uno schiaffo ma proprio uno schiaffo perché era una band che non conoscevo e l'ho conosciuta nel loro concerto i Leprus e i Leprus sono bravi eh esatto io non li conoscevo praticamente i Catatoni ero andata lì per i Catatonia ma i Catatonia non erano riusciti ad arrivare in Italia per problemi di aereo e quindi i Leprus li avevano sostituiti e qui mi è detto dai ormai abbiamo pagato il biglietto ci facciamo un giretto e andiamo io ho passato tutto il concerto con la bocca spalancata e ridevo dicevo ma questi che cacchio sono dal vivo sono mostro cioè è una roba quindi come performance loro da poco ho stata a vedere i Tool non parliamo cioè i Tool è già un mondo a parte e come performance sì queste sicuramente gli Architects e i Tesseract anche loro veramente notevoli però i Leprus mi sono rimasti impressi perché non li conoscevo e sono rimasta incantata i Leprus li ho visti un'unica volta prima di trasferirmi in Finlandia quindi penso un dodici anni fa li avrò visti probabilmente tredici e aprivano ai Amorphis a Milano all'Alcatraz e il cantante aveva ancora i Rasta ai tempi ok e ricordo c'era prima un gruppo spagnolo che non ricordo neanche il nome non ero rimasta impressa scusate e poi c'erano i Leprus e effettivamente poi li ho iniziati a seguire perché già quella volta avevano lasciato il segno esatto e quello mi è successa la stessa cosa cioè l'ho ascoltato e ho detto ma scusa ma veramente abbiamo passato il concerto a ridere ma dallo stupore ci dicevo ma oh mio Dio ma che è veramente sono stati stupendi poi possiamo vederla anche da altri aspetti magari tra i più scenografici ovviamente mettiamo sempre gli Iron Maiden piuttosto che gli Amon Amard divertentissimi gli Amon Amard al vivo però ecco lì andiamo a toccare anche altre cose però quelli che mi hanno lasciato veramente a bocca aperta loro eh sì ma adesso prendiamo il il mio come si chiama in italiano il mio vasetto barattolo il mio barattolo il barattolo del degli argomenti a random e vediamo di cosa parliamo adesso Celebrity Crush allora ti ricordi ovvero non ti ricordi ma hai una cotta per qualche personaggio famoso c'è qualche personaggio famoso che se vedresti dal vivo andresti andresti tipo fuori di testa allora aspetta che allora possiamo dire dato che l'abbiamo già citati che Damiano De Manisch è un bonazzo possiamo possiamo dirlo adesso da poco ha fatto la pubblicità non mi ricordo se per Gucci comunque per cioè dai proprio italiano proprio tipico anni 50 col baffetto dai tutto tatuato sembrerà stupido ma ma sì poi da poco l'ho detto anche per qualcun altro ma non me lo ricordo qualcuno di metal però non me lo ricordo chissà ti dico Damiano perché effettivamente l'ho visto da poco e ho detto ok effettivamente anche se devo dire che Damiano non è il mio tipo però non posso dire che sia brutto anzi capisco che la maggior parte delle donne e magari anche certi uomini ovviamente perché insomma alla fine chiaro alla fine il mondo è vario quindi capisco che che ci sia la trazione che ci sia la mascella che cade sì è proprio il suo modo di fare lui ha un certo fascino e quello quello attira è quello è quello sto cercando di ricordare perché secondo me l'altro era più interessante ma non me lo ricordo se ti viene in mente e mentre quando eri ragazzina ti ricordi qual era il personaggio famoso per cui avevi le bave quando ero piccola quando ero piccola allora vabbè adesso usciamo dalla musica periodo titanic ero io ero proprio cioè ero tipo in prima media quindi il ragazzino biondo con gli occhi azzurri ossia leonardo di caprio che avevamo le cartoline insomma quello o come ricordo lui ma in generale io sono sempre stata molto affascinata parentesi di caprio a parte da tutti quegli uomini quei ragazzi con i capelli lunghi quindi te la butto più in generale se c'era qualche artista con i capelli lunghi in linea generale a me ispirava comunque anche prima di ascoltare metal quindi ti ripeto secondo me ce l'avevo un po' nel sangue sta roba qua dai io se penso al personaggio famoso di cui avevo una cotta assurda da ragazzina perché ricordo si tutte erano dietro a leonardo di caprio quando è venuto fuori il titanic c'avevo compagnie di classe che erano andate dieci volte al cinema a vedere il film io l'ho visto anni dopo in televisione un bel film sì però a me leonardo di caprio non ha mai attizzato adesso che guardo indietro e guardo qualche foto di quando era giovane effettivamente era un bel ragazzo però non so perché io in genere sono attratta da quelli con capelli biondi occhi chiari quindi quindi avrebbe avuto senso però non mi io ero in fissa con brian dei backstreet boys brava è vero è vero ecco e adesso io vedi non ricordo neanche più il nome nei backstreet boys c'era quello con i capelli lunghi che non piaceva a nessuno ah oui esatto però aveva i capelli lunghi e piaceva a me è vero è vero i backstreet boys è stato il mio primo singolo inteso proprio come cd ricordo che avevo la cassetta e l'ascoltavo e l'ascoltavo e l'ascoltavo avevo cartoline e poster ovunque c'è malattia mentale però sai 12 anni 12 anni 14 anni più o meno lì si è capibile meno male che non c'era nei social media perché altrimenti figure di merda che neanche basta mettere sì sì è vero madonna meno male che siamo cresciute senza questa roba perché sennò sarebbe imbarazzante perché anche se cancelli qualcosa alla fine resta lì e qualcuno avrà sempre salvato la foto il video o qualcos'altro quindi bisogna un po' stare attenti ma noi siamo adulti e quindi sappiamo cosa facciamo però i teenager è vero è vero sono nati sono nati già così quindi non si rendono neanche conto di come ci si espone esatto è vero anche perché poi giustamente un 14enne ha la testa di un 14enne come giusto che sia quindi magari anche più sfrontato a fare delle cose che col senno di poi sarebbero assurde orribili da pentirsi però sì chiaro meno male che altrimenti avrei scritto a Brian perché avevo già programmato tutto il matrimonio no vabbè tralasciamo queste storie però probabilmente le avresti scritto sicuro le avrei scritto sicuro al 100% con il mio non inglese perché ai tempi inglese zero ti ricordo le varie canzoni che erano cantate con versi perché non erano parole in inglese chiaro ma sai che io consiglio ancora questo metodo a chi a chi vuole approcciarsi alla allo studio di canzoni inglesi magari non sa bene l'inglese non perché voglio che canti no bla 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 ok non è quello è più per la pronuncia perché dico sempre se voi emulate la sonorità che lui emette sicuramente sarete molto più vicini rispetto che a leggere everybody piuttosto che fare questo che diventa italianissimo invece già soltanto assimilando la pronuncia già è un passo in più poi ovviamente in un secondo step c'è lo studio del testo perché quello va fatto ecco eh sì però l'effetto gne 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 ci sta ci sta prendiamo un altro vediamo cos'è il secondo drinks allora che bevande ti piacciono allora io sono un po' noiosa in questo e intanto svelo un segreto sono una delle poche persone al mondo a cui non piace per niente mai neanche quando ero piccola la coca cola ok sono un raro caso a cui di personale a cui non piace la coca cola e solitamente in generale appunto sono noiosa ho tolta l'acqua e mi piace molto l'idromele ok le birre chiare comunque o vice o bionde e qualcosa di vino rosso sono molto monotematica e oltretutto non sono neanche una gran bevitrice quindi non mi piacciono i super alcolici non mi piacciono i coca sono noiosissima in questo non apprezzo le bevande gasate una buona spremuta d'arancia quella sì però sono molto salutista in questo ma l'idromele è un mio debole ognuno ha il suo debole oltretutto a livello di bevande anch'io sono un po' schizzinosa allora sono cresciuta bevendo coca cola cioè solo coca cola poi ho smesso adesso non la bevo più bevo se capita parliamo una o due volte all'anno però bevo acqua generalmente succo di fragola il top cioè tutto quello che è fragola o frutti di bosco per me è il top buono però poi qualche bevanda gasata sì non l'acqua l'acqua deve essere liscia da rubinetto possibilmente perché è il top oppure acquapanna non so perché l'acquapanna nella mia testa è più buona forse solo il nome ma sai che io sento i sapori nell'acqua quindi assolutamente ti do ragione cioè per me alcune marche sono più buone di altre quindi no no non stai fantasticando è tutto vero non sono matta allora no 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 o siamo matte in due non lo so chi lo sa magari qualcuno ce lo farà sapere nei commenti siamo matte oppure poi birre chiare devono essere weizen però non devono essere troppo amare tipica pills o roba del genere alcolici non mi sono mai ubriacata quindi non sono una gran bevitrice bevo raramente se bevo sono birre oppure bibite al gusto di fragola o simili ok però non deve sentirsi troppo l'alcol perché se no non mi piace siamo molto simili come come gusti ma anch'io è difficile che ma penso non mi sono mai ubriacata non c'è la necessità no no infatti ma poi proprio bevo poco poi mi scocciano anche la cosa più alcolica che bevo è l'idromele però l'idromele secondo me ha il tasso alcolico del vino non di più cioè non è una roba non è una roba eccessiva però è così dolce che buono vabbè allora arriviamo ora al momento della domanda e devo chiedere scusa all'ospite precedente perché non ho scritto la domanda quindi la domanda che lui ha fatto andrà al prossimo ospite quindi ti faccio la domanda dell'ospite ancora precedente ok la domanda adesso te la leggi in inglese poi se vuoi te la traduco in italiano why keep going on this what you are doing perché continuare a fare ciò che ciò che fai per passione cioè io allora dividiamo quello che faccio in due categorie la musicista e l'insegnante l'insegnante perché mi mi realizza veramente la giornata vedere che qualsiasi persona che sia il cantante professionista o la signora che canta il karaoke a me soddisfa vederli felici quando io vedo che a loro ho regalato un'ora di di felicità io per me io ho finito così cioè ho vinto così perché continuare a cantare perché poi a un certo punto diventa viscerale adesso con il lavoro che faccio quindi con l'insegnamento a volte canto poco in realtà perché passo già tante ore ascoltando musica e quindi poi arrivo a casa e faccio altro e poi a un certo punto inizio a stare male e apparentemente non capisco il motivo e poi mi rendo conto che è perché magari sono un po' di settimane che proprio non uso la voce quindi il canto è proprio una necessità è una terapia in sostanza per te sì 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 assolutamente è importante è importante mantenere ciò che ti fa star bene sì il problema di fare poi della propria passione un lavoro è che poi diventa un lavoro e quindi e quindi non lo godiamo appieno comunque non lo godiamo sempre invece ogni tanto bisogna anche ricordarsi del perché abbiamo iniziato io ho iniziato perché a me piaceva cantare e quindi devo ricordarmelo questo quindi ok far felici gli altri ma poi devo anche ritornare a quello che fa star bene a me esatto adesso tu mi devi lasciare una domanda per il prossimo ospite può essere qualsiasi cosa la prima cosa che ti viene in mente ok sei felice della vita che hai è un tema molto ricorrente in questo periodo tra anche tra i miei studenti quindi una bella domanda un bel spunto di riflessione di chiacchierata ma parlando di felicità andiamo a parlare di una delle cose che fa più felice l'essere umano la pizza beh sì allora ti piace la pizza suppongo sì non mi piace la coca cola ma la pizza perfetto qual è la tua pizza preferita domandone allora in realtà sono diventata molto altolocata con la pizza perché qua a Bologna ci sono un sacco di pizzerie proprio con insomma con radici campane quindi insomma qua se si va nei posti giusti si mangia veramente una buona pizza quindi non voglio fare la noiosa ma ti direi la margherita però perché perché io vado a mangiare la margherita in un posto che addirittura che anche è stellato Michelin non è costosa e non è di quelle robe che ti danno una fetta per 100 euro assolutamente no però è una pizza è una pizzeria che ha avuto un sacco di riconoscimenti e la loro margherita è come mangiare una pizza con 100 gusti cioè si sente il sapore dell'olio d'oliva si sente il sapore della mozzarella presa dalla mucca che era al pascolo chissà dove insomma è veramente una buona pizza una signora pizza sì se no ne fanno un altro gusto che è particolarissimo che è bianca ricotta con la mozzarella ovviamente mortadella pistacchio e scorza di limone è una roba particolarissima le mie papille gustative sono già in festa senza averla assaggiata molto particolare ma perché appunto vado in questo posto che fa delle robe diciamo con degli ingredienti particolari quindi fa delle pizze anche dai gusti un po' stravaganti sì sì bello mi sa che però se si mangia sì ma se si mangia una buona pizza la margherita è la margherita è vero poi se posso lasciarti quest'ultima cosa io per pagarmi gli studi ho lavorato 12 anni in una pizzeria ok quindi sei un esperto sì esatto per quello che poi addirittura poi faccio anche l'altezzosa un pochino quindi di solito sono io quella che consiglia i gusti agli altri e se vuoi provare un buon gusto che ti possono fare anche pizzerie diciamo normali non per forza stellate ok prova brie patate e porcini è la fine del mondo a base margherita se vuoi o se no anche solo bianca io sono un po' monotona nel senso che prendo sempre la stessa pizza quando sono in Italia qui in Finlandia non si può avere ma prendo margherita supplemento strachino e olive buona con lo strachino bella la tosta lo strachino se non c'è lo strachino ricotta buona buona anche lei un po' più delicata però ci sta ci sta cosa pensi anzi ti faccio la domanda come la faccio a tutti ci va l'ananas sulla pizza allora vorrei avvalermi della facoltà di non rispondere ma rispondo io assaggio tutto e l'ho assaggiata e mi è piaciuta allora adesso per carità mi toglieranno la cittadinanza italiana tutto quello che vuoi poi ho appena detto sai io chef stellati e poi mi dico questa cosa però a me è piaciuta allora un po' perché a me piacciono tutti i misculli dolce salato agrodolce quindi già vinco facile ma l'ho assaggiata non con gli occhi di una pizza cioè la devi assaggiare come un piatto che non è la pizza napoletana è un'altra cosa quindi se se ti piace l'agrodolce e se apri diciamo i tuoi orizzonti in realtà è buona certo non la paragonerei mai con la margherita fatta con la mucca eccetera eccetera però io l'ho assaggiata e a me è piaciuta lo so sono controcorrente ma io lascio rispondere le persone nel modo in cui vogliono perché appunto siamo tutti diversi e alla fine chi sono io per dire cosa è giusto cosa è sbagliato a me per esempio non piace l'agrodolce in sostanza a parte in alcuni piatti orientali però l'ananas a me nella macedonia sì però oltre a quello non è un un gusto che apprezzo quindi per me l'ananas è una cosa una cosa simpatica da guardare come come frutto è vero è simpatica beh allora è normale che non ti piace considera che io la metto anche nel poche cioè capito quindi parliamo al contrario di un amante dell'ananas quindi vabbè la metti sulla pizza cosa vuoi che sia infatti beh siamo alla fine di questo episodio ti ringrazio tantissimo per essere stata mia ospite e spero che la gente apprezzi anche questo episodio vuoi dire qualcosa alle persone che stanno guardando o ascoltando questo questa puntata allora ascoltate 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 tanta musica non fermatevi al mainstream nell'underground ci sono un sacco di gruppi che spaccano e che hanno bisogno di uscire quindi siate curiosi andate ai concerti assolutamente e ascoltate ascoltate c'è un mondo bellissimo non ci dobbiamo per forza fermare in quelle due cose che ci propina il mainstream per quanto alcune cose sono anche valide del mainstream però veramente andate ai concerti andate nei locali andate a farvi una birra e ascoltate i gruppi perché i gruppi si fanno un mazzo e spesso e volentieri hanno veramente della musica di qualità esatto l'importante è supportare perché senza il supporto i gruppi non vanno da nessuna parte o meglio fanno musica però non hanno soldi per andare avanti perché alla fine il supporto che si puoi dare supporto tramite i social media social media puoi mettere i like quanto vuoi però se devi andare a vedere i concerti perché poi arriva un'entrata comprare le magliette o qualsiasi cosa che la band vende comprare i cd sono tutte cose molto importanti da fare sì sono d'accordo sono d'accordo e servono tanto fare il musicista soprattutto avere una band di inediti è estremamente costoso cioè non potete neanche immaginare quante cose è una delle passioni più costose che esistano e quindi sì se un gruppo vi piace supportatelo assolutamente esatto grazie mille grazie a te